Luigi Di Maio supera la prova del primo discorso pubblico dopo l'insediamento del governo. Per il neoministro dello sviluppo economico dall'Assemblea di Confcommercio, tanti applausi e un clima più che amichevole, costellato dalle richieste di selfie e da grida di incoraggiamento. A semplificare le cose, il fatto che l'altro vicepremier, Matteo Salvini, concede solo una rapida apparizione alla platea dei commercianti. Luigi Di Maio dal palco li rassicura. Nel 2019 spiega l'IVA non aumenterà. Il vicepremier promette inoltre che le clausole di salvaguardia saranno disinnescate. Di più, il governo annuncia una mini-rivoluzione anche sul fisco, dall'abolizione di strumenti come lo spesometro e il redditometro all'inversione dell'onere della prova in caso di evasione. Ognuno, cioè, è onesto fino a prova contraria. L'associazione di Carlo Sangalli gradisce perché, dice il capo dei commercianti, è ora di pensare al lavoro, alle infrastrutture e all'innovazione. Qualche timore serpeggia sul salario minimo. Per noi la via maestra resta il reddito che viene dal lavoro. Lavoro dignitoso e salario giusto, dice Sangalli, che si dice preoccupato per una misura, che può finire per disperdere un patrimonio di relazioni e traguardi ottenuti. Di Maio rassicura anche su questo, varrà solo per chi è fuori dalla contrattazione nazionale. Ma per tutta un'altra generazione di lavoratori che sono fuori dalle contrattazioni, per quelle persone va garantito almeno un salario minimo.